Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti che ho acquistato di Essence Della collezione Stepping to Magic Wonderland Ho acquistato comunque tutti questi prodotti nel sito di Cosmetic for Less Vi lascio come sempre l'elenco di prodotti con i prezzi giù nell'info box Considerate che i prezzi sono leggermente più bassi rispetto a quelli che ci sono qui in Italia Però più o meno sono quelli Ho acquistato 5 prodotti 4 nel sito di Cosmetic for Less In realtà uno l'ho acquistato qui in Sardegna Perché praticamente ho visto che non era già disponibile online Sapevo che mi stava arrivando il pacco e quindi l'ho preso In realtà avrei voluto anche l'illuminante ma non l'ho trovato disponibile E ho preso altri prodotti Ho preso praticamente due matite, due rossetti e un prodotto per le unghie Le matite sono comunque queste due Praticamente si possono utilizzare sia per gli occhi che per le labbra Ma così sicuramente utilizzerò una per gli occhi e una per le labbra Perché sono una grigia e una fucsia Quella fucsia praticamente si chiama 01 Pink Dreams Are Made Of This All'interno ci sono 1,3 grammi di prodotto 24 mesi di PAO È una matita comunque abbastanza fucsia È un fucsia molto molto acceso Secondo me può essere utilizzata anche con il Candy Yam Yam Perché è uno di quei fucsia molto molto pigmentati e abbastanza fluo È davvero molto carina Secondo me è molto carina anche per le feste di Natale Se non volete optare per il classico rossetto rosso Ma volete qualcosa di più acceso Ma sicuramente lo utilizzerò molto più probabilmente nel periodo estivo Perché queste colorazioni qui le utilizzo più nel periodo estivo che nel periodo invernale E mentre l'altra matita Praticamente ha sempre 1,3 grammi di prodotto e 24 mesi di PAO Si chiama 02 Chrome Into My Life Questa appunto l'utilizzerò negli occhi Sapete che io amo tantissimo utilizzare il grigio sugli occhi Soprattutto in un periodo natalizio E quindi questa la utilizzerò senza altro perché mi piace tantissimo Perché è un grigio però molto molto metalizzato È un grigio abbastanza chiaro rispetto ai soliti grigi Sicuramente lo potevo utilizzare anche col trucco di oggi Avrei messo in risalto anche la differenza Quindi mi piace utilizzare anche una matita che è leggermente più chiara Rispetto all'ombrato che su la palpebra perché risalta di più E poi appunto ho acquistato due rossetti Uno è questo qui che ha tutto il packaging così sul viola Praticamente il tappo è trasparente mentre il resto è tutto questo grigio così argento All'interno ci sono 3,8 grammi di prodotto a 12 mesi di PAO E praticamente è un viola tutto glitterato Diciamo che l'ho preso più per collezione che non per il rossetto Perché comunque è un rossetto abbastanza sheer Che praticamente è molto molto luminoso Ed è molto molto riempito di glitter Adesso sto comunque stratificandolo per farvi vedere lo swatch Ma secondo me di quei rossetti che può essere utilizzato direttamente Magari con una matita oppure un rossetto di quelli molto chiari Che vogliono, oppure anche più scuri Quindi volete fare un contrasto e renderlo molto più luminoso E comunque questa è la colorazione numero 03, Healthy Whispers Mentre l'altra si chiama 02 Pink Dreams Are Made Of This E praticamente questa è una classica colorazione più fucsia E secondo me può essere utilizzata con la matita che vi ho mostrato prima Magari quella come base e questa lì sopra Questo mi sembra anche leggermente meno pigmentato rispetto all'altro Più glitteroso e senza una base sotto Lo era anche l'altro però questo di più Sicuramente può essere utilizzato benissimo con questa matita E ci sta benissimo Sicuramente lo utilizzerò così Comunque è una delle colorazioni che pur essendo così glitterosa Secondo me è adatta al periodo natalissimo Può essere utilizzata anche in periodo estivo Quindi quando c'è molta luce, primaverile In quei periodi lì tendo ad utilizzare tantissimo I colori così fucsia, così accesi Però questo secondo me ha un appunto di più di glitter Quindi sa tantissimo di questo periodo Non lo so, mi ricorda tantissimo il Natale Non lo so perché E poi ho preso appunto questo smalto In realtà ne volevo prendere anche quello fucsia Ma ho lasciato a prendere perché ho tantissimi smalti Questo si chiama Melted Chrome Nail Polish All'interno ci sono 8 ml di prodotto È a 36 mesi di PAO Ed è lo 01 Health Whispers La colorazione è questa qui Quindi è un viola Mi sembra anche abbastanza liquidino Lo scovolino non è tantissimo cicciotto Come di solito sono quelli di Essence Comunque io mi trovo bene con gli smalti di Essence Non durano tantissimo Però comunque per essere degli smalti che costano pochissimo Io mi trovo bene Considerate che io preferisco cambiare lo smalto molto spesso Dopo un paio di giorni tendo sempre a cambiarlo Perché mi stanco subito di avere sempre lo stesso smalto Ultimamente non sto usando lo smalto Al massimo sto utilizzando quello trasparente E ve lo vorrei rimettermi A mettere di più le unghie A mettere di più lo smalto Quindi questa è comunque una di quelle colorazioni Che mi piace tantissimo Quindi ne ho approfittato Fatemi sapere se voi avete trovato questa collezione Se avete già preso qualcosa E state provando qualcosa Se volete consigliarmi qualcosa Delle ultime edizioni limitate Oppure l'edizione permanente Se è piaciuto il video mettete in piace E a presto Ciao